Ciao a tutti ragazzi, io sono Mary Light e in questo video vi presento un programma super utile e soprattutto che non necessita di un'installazione per il nostro sistema operativo di Windows completamente gratuito e può essere scaricato da chiunque. A cosa serve? A liberare la memoria RAM in utilizzo perché è un programma importante? Perché ragazzi quando il vostro PC si rallenta utilizzando questo programma lo andrete a velocizzare. Ma di quale programma vi sto parlando? Di Win Memory Cleaner, vi lascio il link in descrizione. Dovrete andare in basso e cliccare semplicemente su Download dove c'è l'icona di Windows. Come vedete qui in alto funziona da Windows Vista in poi, anche quindi sull'ultimo Windows 11 appena uscito. Clicchiamo quindi su Download e a questo punto estraiamo il pacchetto ed ecco l'icona del programma che noi andremo ad avviare come amministratore. Questa è la sua interfaccia dove noi andremo a selezionare Combined Page List, Modified Page List, mentre l'unica casella che dovremmo lasciare vuota è Standby List, attivando tutte le altre. Adesso ragazzi vi mostro, andando nella barra delle applicazioni e cliccando su Gestione Attività, la mia memoria in utilizzo. Come vedete la mia memoria in questo momento è al 35%. Di solito quando aprite programmi o giochi tra virgolette pesanti, questa memoria può arrivare addirittura al 99% e quindi oltre a rallentare il proprio computer, non fa assolutamente bene al PC stesso. Quindi cosa andiamo a fare? Una volta aperto questo programma clicchiamo semplicemente su Clean Up Memory e adesso ragazzi mentre sto parlando come vedete si sta abbassando di molto la memoria RAM. Non vi preoccupate se per un secondo il disco arrivi a 100% perché subito dopo si abbassa in automatico. Quindi da 35% di memoria come vedete sono passata a 22%. Quindi si è abbassata di molto e non ho dovuto chiudere nessun programma. Infine quando non vi serve più semplicemente lo chiudete e l'icona del programma se volete la trascinate sul desktop per comodità e per utilizzarla tutte le volte che ne avete bisogno. Il pacchetto invece lo potete cancellare perché ormai non ci serve più lasciando solamente quindi l'icona del programma. Benissimo spero che questo video vi è stato d'aiuto. Se sì lasciate un like. Ciao e alla prossima da Mary Light!